Allora, non è facile vicine, seguiteci e vi faremo vedere cose straordinarie. Nostri amici, venitevi. Amici, benvenuti a Torciano, Bottega, Foggi Bonzi. Un'esperienza unica. Gli amici dell'Accademia Toscana vengono a trovarci per fare una degustazione con i nostri chef. I nostri chef e i nostri sommelier e camerieri dello staff Torciano. Allora amici, raccontiamo il menù. Oggi Bottega Torciano si gusterà baccalà mantecato su crostone di polenta, porri e gocce di rosato. Chiaramente produzione Torciano. Raviolo ripieno di ricotta di bufala e fiori eduli su crema di fagioli, eccellenza toscana, pecorino di fossa e tartufo con riduzione alla vernaccia, altra magnificenza di Bottega Torciano. Brassato al Bartolomeo che i nostri amici già in cucina ci hanno raccontato, con vellutata di zucca e quindi ancora una volta prodotto di stagione e chips di patate viola. Qui si vuole dare lustro un po' alla creatività. Come dicevamo prima, ricciarello fatto in casa con crema al zabaione al vinsanto o vimbeato. Un'esplosione di gusto, sapore e un fine pasto straordinario. Tutti i vini di questo menù verranno degustati a loro volta sotto la guida sapiente del nostro Leonardo. Allora, Leonardo ed Enrico. Leonardo, che operazione stai facendo? Buongiorno, sto aprendo il tappo per assicurarmi, prima di versarlo, che il tappo abbia un buon profumo. Ogni dettaglio a Torciano è curato nei minimi particolari. Enrico invece, tu, che operazione stai facendo? Allora, sto cercando di pulire il calice al fine di evitare qualsiasi macchia e soprattutto per gli odori. Perché se devo versare il vino mi serve sempre avere il calice pulito al fine di evitare qualsiasi intacco di odore, anche odori sgradevoli. E poter goderci a vernaccia nel migliore dei modi. Allora, sto cercando di pulire il calice.